media e tech a cura di roberto scaglione e bentrovati a quest'edizione ultimo trimestre annata record per alphabet la società madre di google che negli ultimi tre mesi del 2021 ha registrato ricavi per 73,33 miliardi di dollari contro i 56,90 dello stesso periodo dell'anno precedente l'utile netto è stato di 20,64 miliardi mentre i profitti dell'intero anno 76 miliardi di dollari quasi il doppio rispetto ai 40 miliardi dell'anno precedente tutti i risultati sono al di sopra delle previsioni degli analisti e invece meta la società che controlla facebook e instagram il quarto trimestre del 2021 lo ha chiuso con ricavi per 33,67 miliardi di dollari contro i 28,07 di un anno primo e i 33,17 stimati da alcuni analisti l'utile netto è stato di 10,29 miliardi di dollari meno 8% dato sotto le attese degli analisti e questo è il primo anno che la società ha cambiato nome il primo rilevamento da quando la società ha cambiato nome per il trimestre in corso invece meta prevede ricavi tra i 27 e i 29 miliardi di dollari mentre gli analisti si attendevano una cifra intorno ai 34,53 miliardi per la prima volta inoltre meta ha postato i risultati della sua unità reality labs quella focalizzata sulla nuova frontiera della realtà aumentata anche in questo caso risultati deludenti con una perdita di 3,3 miliardi meta ha spiegato la frenata con la minore capacità di trattenere l'attenzione degli utenti a causa della concorrenza indicando ad esempio che passano più tempo sui reels un formato di video corto su instagram che è ispirata a quelli tiktok e che genera tassi di remunerazione meno elevati rispetto ai formati classici di instagram il gruppo aveva poi messo in guardia che le regole imposte da apple l'anno scorso quelle in materia di pubblicità ossia l'obbligo di chiedere il permesso per raccogliere i dati degli utenti rischiavano di avere conseguenze negative sui risultati del quarto trimestre il modello economico di meta infatti si fonda sulla vendita di pubblicità personalizzate in funzione dei gusti e delle abitudini dei consumatori e la ricerca italiana con il consiglio nazionale delle ricerche adesso a disposizione uno strumento in più grazie all'ingresso nella rete dei computer quantistici dell'ibm i ricercatori potranno infatti utilizzare i 20 computer quantistici della rete fra i quali l'innovativo eagle per applicazioni in numerosi ambiti dalla comprensione del mondo fisico fino alla progettazione di nuovi farmaci e il cnr la prima istituzione italiana a partecipare al quantum network di ibm ha detto la presidente maria chiara carrozza questo accordo apre alla possibilità di cooperazione con prestigiosi partner internazionali che svolgono ricerca nel settore delle quantum technologies e mette a disposizione dei nostri ricercatori e dello sviluppo del paese uno strumento di frontiera avanzatissimo in grado di segnare una svolta rivoluzionale in diversi settori a partire da quello informatico l'accesso alla rete è destinato in particolare ai ricercatori dell'istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni dell'istituto di informatica e telematica ma in futuro potrà essere esteso a tutti gli altri istituti del cnr la computazione quantistica nei prossimi anni consentirà di trovare soluzioni a problemi scientifici e applicativi ritenuti irrisolvibili con gli attuali sistemi di supercalcolo ha detto il direttore di cnr icar giuseppe de pietro ciò ha aggiunto comporterà un cambiamento radicale nel modo di pensare alla progettazione di algoritme software aprendo nuovi campi di ricerca per alessandro curioni direttore di ibm research per l'europa le possibili applicazioni vanno dai modelli per simulare accuratamente il mondo fisico ed eventualmente progettare farmaci e materiali migliori agli strumenti per affrontare problemi di ottimizzazione complessi come quelli legati alla modellazione del clima e della finanza e blackberry smantella gli ultimi asset l'azienda come si apprende da una nota ufficiale ha deciso di cedere un buon numero di brevetti relativo ai dispositivi mobili alla tecnologia di messaggistica e alle reti wireless per 800 milioni di dollari e l'acquirente è catapult ip innovation a gennaio l'ex colosso del mercato della telefonia ha interrotto il supporto al sistema operativo blackberry os come vi avevamo riportato in questi notiziari di fatto staccando la spina ai suoi telefoni la società resta concentrata sulla fornitura di software e servizi di sicurezza all'impresa oltre ad essere presente nel mercato automobilistico con la piazzaforma quenix attualmente il marchio blackberry è gestito in licenza dalla statunitense onward mobility secondo un rapporto del sito specializzato apple insider la mossa di vendere i brevetti potrebbe causare problemi ad altre società di smartphone come apple più volte citate in giudizio per presunte violazioni dei brevetti blackberry ma cause sono state messe in piedi negli anni anche contro nokia facebook e whatsapp oltre che snapchat e twitter catapult ip innovations la società che li ha acquisiti potrebbe seguire le sue orme per capitalizzare il suo investimento secondo gli osservatori infatti è un cosiddetto patent troll ovvero una società che compra brevetti e diritti di proprietà intellettuale senza però produrre né vendere nulla ma ottiene profitti esclusivamente dalle cause legali e per questa edizione tutto da roberto scaglione appuntamento alla prossima grazie a tutti Grazie.